Tommaso Giagnacovo, eletto da poco presidente della Col di Retti del Molise, tra l'altro il presidente più giovane d'Italia. Che tipo di programma intende portare lei all'interno di Col di Retti? Sì, naturalmente noi cerchiamo di avvantaggiare molti giovani in questo periodo, perché è una fase transitoria dove c'è il ricambio generazionale, soprattutto per i nuovi PSR del Molise. Infatti il servizio che stiamo cercando di dare e andare sull'avanguardia è sicuramente l'informazione giovane di quello che si sta facendo sia sulla parte normativa che sulla parte della commercializzazione e sia sulla parte di lavorazione dei terreni. Oltre questo stiamo facendo un servizio di consulenza nelle nostre sedi per agevolare i giovani e per lo start up aziendale soprattutto. Però non vediamo ormai solamente il bianco e il nero, quindi non vediamo la coltivazione in genere, ma facciamo più un discorso colorato. Le aziende start up hanno bisogno di una consulenza diversa rispetto alle aziende già avviate, però anche le aziende già avviate hanno bisogno di un altro tipo di consulenza. Quindi questo faremo sicuramente nel futuro. E' quello che diciamo ai giovani, è quello che non bisogna fare più ormai la coltivazione che si faceva una volta, ma bisogna prendere i prodotti ad hoc nel nostro territorio, valorizzarli tramite studi di ricerca e rimettere in commercio in modo tale di non standardizzare il nostro prodotto. C'è questa tendenza ora con la crisi da qualche anno del ritorno, lo chiamano il ritorno alla campagna. Tanti giovani altrove, forse ora ci dirà lei se accade anche in Molise, scelgono di magari aprire delle piccole aziende, di tornare a coltivare la terra. Quali sono i vantaggi che possono trovare e quali sono i consigli? Lei che tra l'altro è titolare di una azienda, è giovane ed è giovane presidente da Coldiretti. Sì, il consiglio è quello di non standardizzare il prodotto, poi quello che diciamo di innovazione, l'innovazione non è solamente parco macchine, però è un'idea di partenza. Ho visto molte realtà a livello nazionale, bellissime, e la cosa bella è che non è più un secondo lavoro l'agricoltura, ma i giovani lo stanno prendendo come un punto di riferimento per il loro futuro e il futuro dei loro figli. Quindi l'idea iniziale è non standardizzare i prodotti in modo tale di poter vendere e commercializzare su livello a scala mondiale. Diciamo tre settori, possiamo dire caseario, insaccati, olio, vino? Sì, possiamo dire sicuramente quello perché il nostro territorio ha una tradizione su questo, quindi è giusto che tutti quanti cercano di fare questo tipo di prodotto. Però ci sono anche prodotti innovativi, ma si possono legare benissimo, quello che dico sempre, aziende multifunzionali, che sono aziende all'avanguardia, dove si possono abbinare il sociale con l'agricoltura, l'artigianato con l'agricoltura. Quindi l'agricoltura e l'agroalimentare è talmente vasto e talmente vario che ognuno può fare il lavoro che a lui piace.